amici di inter tv.it bentornati da Michele Borrelli alla video rassegna il 9 luglio giovedì e nove anni fa l'Italia diventava per la quarta volta campione del mondo andiamo a vedere le prime pagine dei giornali sportivi italiani che parlano soprattutto del mercato del mercato e degli acquisti anche dell'Inter la gazzetta dello sport strategie rossonere affari granata partiamo dal torino con d'armiana lo united il toro si scatena baselli e zappacosta accordo con l'atalanta per i due gioiellini 10 milioni metà di quelli incassati per l'azzurro cioè per d'armian strategie rossonere milan nuovo stadio in stile celsi l'altra vita poi del tasso intervista a tassotti potevo allenare ancora intanto l'impianto si calcola che potrebbe portare il 400 per cento in più di ricavi e c'è il nuovo stadio del milan ma andiamo a vedere gli acquisti più o meno facili per le cinque grandi un mercato da 10 perisic e jovetic per mancini la juve pensa oscar e quadrato se pogbao vidalla andranno via il milan sogna ibra e punta romagnoli e gundogan la roma vuole gioco e babba allen a napoli e perotti e più vicino eccoli qua tutti e dieci jovetic naturalmente e perisic accostati all'inter quadrato e oscar alla juventus gundogan e romagnoli al milan allen e perotti al napoli baba e zeko al alla roma euforia nerazzurra in 2000 nel ritiro di brunico icardi condobbià palco scudetto come corre intanto montoglia che si è presentato al barcellona non ero felice ora punto a vincere qui quasi fatta per zucanovic quasi ormai ed obbligo shakiri verso lo stock city quindi la gazzetta che vede uno shakiri in rampa di cessione si starebbe convincendo che per mancini non è al centro del progetto e poi tennis wimbledon quindi tutti gli aggiornamenti sul torneo sull'erba di wimbledon europa asia stati uniti australia viaggio nell'impero del city e i processi e le sentenze per quanto riguarda la serie b che ha scelto il via slitta al 4 settembre naturalmente anche il tour de france che va avanti andiamo sulla pagina sulla prima pagina del corriere dello sport con l'inter indecisa ma vediamo prima in taglio alto emery esclusivo l'allenatore del siviglia che dice dell'aurentis ha energia e bacca rialzerà il milan lui ha conosciuto dell'aurentis che l'ha corteggiato poi alla fine ha rifiutato perché il napoli non si è qualificato per la champions league e bacca naturalmente l'ha avuto al siviglia vincendo due europa league il tecnico del super siviglia dice tutto la serie a è bella mi piace immobile andiamo sull'inter però inter indecisa secondo il corriere dello sport sala o jovetic l'egiziano atteso per oggi al raduno del celsi ma mancini a fretta e allora i nerazzurri sono pronti a stringere per il fantasista del city l'affare si può chiudere in pochi giorni ecco queste sono le due carte principali anche se lo stesso perisic ce l'abbiamo detto più volte resta un giocatore su cui si può andare a trattare con il bosburg anche se l'abbiamo detto più volte il bosburg non è aperto a tutte le soluzioni di trattativa per quanto riguarda i vari diritti di riscatto obbligo di riscatto prestito ma soprattutto per le cifre la cifra finale che è ancora resta alta mexess firma poi romagnoli per miailovic vedremo tra un po anche su tutto sport come viene interpretata questa firma di mexess addirittura non richiestissima dall'allenatore napoli allan indirittura invece dal rifiuta roma siti alle strette per zeco lazio olandese c'è kisna per l'attacco il giocatore giovanissimo dell'ajax classe 95 toro due colpi presi baselli e zappacosta come abbiamo già visto anche sulla gazzetta e poi gli assi azzurri votano tutti roma 2024 dalla simeoni ad alberto tomba parla il commissario miele voglio garantire una lega pro pulita preparo un rinnovamento totale intanto è ufficiale la serie b a settembre quindi slitta di due settimane rispetto al previsto la partenza del palermo la partenza dei siciliani della nuova stagione con banfi e cana anzi banfi cana perché appunto lino banfi è interpretato ronzo cana nel film l'allenatore nel pallone quindi banfi cana scadenato palermo in europa l'attore all'amico jacchini 6 grande questo era il corriere dello sport andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale torinese tutto sport il caso mexess imbarazza mihailovic berlusconi chiama il tecnico e reintegra il francese nel milan e quindi si parla si fa intendere che mihailovic non aveva come priorità il francese per essere così buoni oggi l'incontro decisivo per quanto riguarda l'inter anzi si parla di incontro forse decisivo siti via libera e jovetic all'inter sorpassa salà il commento è troppo lunghi i tempi per l'egiziano del celsi mancini a fretta sempre caldo perisic e quindi secondo tutto sport salà sarebbe stato definitivamente scavalcato da jovetic per una questione di tempistica sogni juve botti toro tra i botti del torino al raduno festa con joe lobi eccolo qua joe lobi acquisto proprio dall'inter in arrivo baselli e zappacosta per quanto riguarda il torino ceduto da armiana lo united di granata ripartono da due giovani che erano nel milino di mezza serie a e c'è baselli e zappacosta all'atalanta 10 milioni cairo cerca ancora un attaccante torna caldo abel hernandez stavolta cairo merita applausi e questo è il commento nell'editoriale di tutto sport la juventus parla che dira e sogni juve qui per vincere la champions il tedesco dice quando perdi una finale riparti ancora più motivato vidal niente processo penale per ora dovrà rigare dritto preso il giovane cerri nasce una nuova alleanza con il carpi poi altre notizie per quanto riguarda il mercato di serie a la corte del verona a pazzini tra mercato e proclami ferrero appunto altro show samp e poi baba roma il terzino dell'ausburg col dramma incidente d'auto ma potrebbe arrivare alla roma e poi un olandese all'atalanta quindi non solo alla lazio si parlerebbe olandese per quanto riguarda la serie b l'abbiamo già detto slitta il via alla serie b 4 e 5 settembre 6 settembre anche perché da venerdì a domenica per quanto riguarda proprio il weekend in cui la serie a si fermerà dopo due giornate per la sosta la prima solita consueta sosta per le nazionali sono troppe le incognite ancora per la serie b e quindi si slitta di due settimane poi super lavoro per nibali al tour de france la squadra è poco unita vedremo come andrà avanti anche il tour per le prime pagine dei giornali sportivi italiani di giovedì 9 luglio è tutto un appuntamento da parte nostra e con i prossimi appuntamenti di inter tv.it c'è sia la sera alle 8 con lo speciale ritiro riscone di brunico sia alle 23 quindi alle 20 e alle 23 per quanto riguarda obiettivo inter sia su inter tv.it che su caffè tv 24 tutte le sere a presto